Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Ancora un episodio di maltrattamento nel Tarantino. I carabinieri della stazione radiomobile Ionica sono infatti intervenuti a seguito di una chiamata al 112 da parte di una donna bisognosa di aiuto. La vittima infatti sconvolta era stata picchiata dal compagno, un cinquantenne Tarantino. L'uomo aveva infierito sulla donna sperrando le calci e pugni e lasciandola sfinita. Sul pavimento i militari hanno individuato tracce di sangue, così sul volto e sul corpo della donna ancora i segni dell'aggressione. La vittima, che ha rifiutato di rivolgersi ad un centro antiviolenza, ha raccontato ai carabinieri dei vari episodi di violenza subiti dal cinquantenne. L'uomo che nel frattempo si era messo a dormire è stato arrestato in flagranza di reato, secondo le norme del Codice Rosso, e si trova al momento ai domiciliari, mentre la donna è stata affidata alle cure del 118. Un'istituzione a tutela della persona contro l'illegalità e l'abusivismo di una professione sanitaria indispensabile per il processo riabilitativo dei pazienti, che nel periodo post-pandemia assume ancora più importanza. Nasce così il primo consiglio direttivo dell'ordine dei fisioterapisti di Bari, Barlette, Andrea Trani e Taranto. Queste tre province, dopo 60 anni di storia nell'ambito, si dotano finalmente di un organismo unico che non ha precedenti, con quasi 3.000 professionisti coinvolti. Il nuovo ordine rappresenta una garanzia per iscritti e pazienti. Il cittadino avrà infatti la certezza di trovare fisioterapisti professionisti riconosciuti. Il primo obiettivo è proprio quello di eliminare la piaga dell'abusivismo, mettendo a disposizione dell'utente una serie di strumenti per riconoscere gli operatori non autorizzati. A breve l'ordine interprovinciale avrà un suo portale web di riferimento, con tutte le informazioni utili per aprire questa professione al territorio pugliese. In cantiere, poi, una moltitudine di iniziative aperte a tutti per conoscere meglio il mondo della fisioterapia. La Federazione Nazionale Sicurezza Cisla ha effettuato questa mattina una visita presso la casa circondariale Carmelo Magli di Taranto a sostegno del personale di polizia penitenziaria. All'indomani di vari episodi di aggressione a danno degli agenti di denunce da parte degli stessi per varie criticità rilevate all'interno della struttura penitenziaria, il sindacato ha voluto accedere per valutare le condizioni lavorative, lo stato di igiene e quello di sicurezza in applicazione dell'accordo quadro nazionale. La casa circondariale di Taranto, la situazione che abbiamo trovato, in base agli atti che abbiamo riscontrato, la dotazione organi di questo istituto deve essere ampliata. Noi, alcuni giorni fa, la Secretaria regionale ha effettuato un comunicato stampa e uno stato di agitazione perché stiamo revisionando all'interno nazionale la dotazione organica e la Puglia, la Puglia compresa Taranto che ha una criticità abbastanza elevata, anche con l'apertura del nuovo patiglione, non sono stati incrementati l'adeguamento dell'organico. Qua all'istituto mancherebbe una trentina di unità con tutti i connessi di tutta l'operatività dell'istituto perché non guardiamo solo all'interno dell'istituto, vediamo tutti i servizi connessi all'esterno, colloquio di famiglia, avvocati, magistrati, tribunali, dotazione di organi e oggi qui dobbiamo anche potenziare le REMS. Problemi in caso è verificata qualche aggressione, anche il governo, il ministro, anche il sottosegretario stiamo valutando, l'amministrazione sta valutando, come si può dire, le regole di incancio per vedere l'operatività degli agenti quando succedono questi casi. Questa mattina presso la sede del Dipartimento Ionico in Via Duomo a Taranto un convegno medico-scientifico su iridologia clinica, medicine funzionali integrate e nuove frontiere delle terapie epigenetiche. Ospite atteso il professor Pier Mario Biava, medico e ricercatore nel campo della terapia integrata in grado di curare il cancro in associazione con quella tradizionale e la cui validità è stata già riconosciuta da una commissione scientifica europea. Noi ci siamo resi conto che dal punto di vista epigenetico è possibile riprogrammare il codice genetico alterato, come nel caso delle malattie tumorali o anche nel caso delle malattie, di altri tipi di malattie come il sistema nervoso, come Parkinson, Alzheimer, sclerosi multiple e così via. Abbiamo messo a punto quindi dei prodotti che sono in grado, da un lato, di riprogrammare le cellule tumorali, dall'altro, di rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. Quindi questi prodotti vengono utilizzati da un lato nelle terapie oncologiche, non come terapie alternative ma come terapie integrative anche delle terapie tradizionali di consolidata efficacia. Dall'altro possiamo utilizzare un'altra serie di prodotti che sono in grado, come dicevo, di rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. Ovviamente queste scoperte cambiano in modo abbastanza radicale la medicina, pensiamo che in futuro, man mano che queste informazioni vengono trasmesse anche ai medici, possano appunto incidere in modo importante nel migliorare la salute dei cittadini. Si svolge nella giornata di oggi, 3 aprile, dalle ore 10 alle ore 17, presso il Centro Congressi della Cittadella delle Imprese di Taranto, l'evento Io lavoro in Puglia Talent Day, organizzato dalle 5 Camere di Commercio Pugliesi e Union Camere Puglia, in collaborazione con la Rete Alberghieri della Regione. L'evento, a costo zero per i partecipanti, risponde alla richiesta di figure professionali da parte del mondo della ristorazione pugliese, in vista dell'imminente stagione estiva. Nel corso della giornata, le imprese hanno incontrato gli studenti del quinto anno degli istituti alberghieri, discutendo con loro delle opportunità di lavoro. Sì, oggi a Taranto la Camera di Commercio sta avviando una prima iniziativa, vogliamo sperare proprio che sia la prima di tante iniziative negli anni a seguire, di avvicinamento alla formazione dei ragazzi degli istituti alberghieri. L'iniziativa è organizzata da Union Camere Puglia, con la partecipazione di tutte e 5 le Camere di Commercio pugliesi. Con noi sono partner Rete Alberghieri di Puglia e a livello europeo. Nella giornata avremo 90 ragazzi che si incontreranno con le imprese che hanno aderito all'iniziativa per poter fare delle esperienze curricolari presso di loro. I ragazzi poi nella giornata faranno un'iniziativa formativa al fine di predisporre un curriculum online che verrà inserito in un sistema di conoscibilità delle proprie caratteristiche professionali. È un'iniziativa che va nell'ambito del percorso di orientamento alternanza scuola-lavoro, alla quale le Camere di Commercio contribuiscono anche attraverso la valorizzazione delle figure specifiche legate con la ricettività turistica. Noi come Associazione Link siamo stati molto lieti di accogliere l'invito di Union Camere della Camere di Commercio di Taranto per parlare dei programmi europei per i giovani con i programmi Erasmus Plus e Corpo di Solidarietà. Il legame che esiste fra partecipare a questi programmi è sviluppare nuove competenze che poi per i giovani ovviamente sono fondamentali per facilitare il loro accesso al mondo del lavoro. Come previsto uno spettacolo ricco di emozioni e di bis inaspettati, un altro prevedibile sold out. Sul palcoscenico del teatro comunale Fusco Rosalino Celammare, Ron, ha incantato un pubblico reattivo, felice e partecipativo, con una scaletta ispirata alla vita quotidiana e alla semplicità, con un sound pulito e romantico. Contesti cult e di successo come Vorrei incontrarti fra cent'anni, il gigante alla bambina, una città per cantare. Ron si è confermato testimonial indiscusso della musica italiana d'autore. Con i suoi 50 anni di carriera, ricordiamo anche il premio della critica Mia Martini, le sue canzoni hanno saputo regalare sogni ed emozioni. A Taranto, serata indimenticabile con bis finale, il pubblico ha cantato insieme a lui uno strepitoso Gio Temerario. Amore, sacro e profano, emozioni e passione, atmosfere barocche e musica che arriva dritto al cuore. Tutto questo nello scenario della chiesa di San Pasquale, per uno degli appuntamenti più attesi del Misterium Festival 2023. Un fantastico face to face con la magica tromba di Fabrizio Bosso e l'eclettica fisarmonica di Luciano Biondini. Due nomi di livello internazionale che hanno regalato una doppia esecuzione incantando il pubblico nella chiesa dei frati minori, gremita in ogni ordine di posto. Il Misterium, come ama sottolineare il direttore artistico Piero Romano, si conferma un'autentica dimostrazione di affetto, dedizione e stima nei confronti della realtà tarantina. Lavorare per la comunità, questo il valore fondante del progetto musicale. Dopo tre risultati utili consecutivi il Taranto torna a casa con una sconfitta da Lezio Scida di Crotone, dove nel primo tempo non è mai stato praticamente in partita anche per merito di una compagine di casa davvero di un'altra categoria. Meglio nella prima parte del secondo tempo i tarantini quando hanno provato con fuga impegno a trovare il gol del pareggio, ma la differenza tecnico-tattica tra le due squadre, unite alla solita mancanza di cattiveria sotto rete, hanno fatto pendere la bilancia del match a favore degli uomini di Zauli. Bravi a trovare il gol vittorio al quinto minuto con Crialese, che ha battuto Vannucchi con un tapin su una respinta della traversa a seguito di una magistrale punizione calciata dai 30 metri da Chiricò. Da domani testa al Pescara di Zeman per gli uomini di Capuano, che nel giorno di sabato santo ospiteranno gli abruzzesi in un match che potrebbe valere la salvezza matematica con due giornate di anticipo. Terzo stop consecutivo per il Martina di Massimo Pizzulli, che nell'anticipo del girone H di Serie D cade sul terreno amico sotto i colpi del gladiator. Gara combattuta quella tra Casertani e la compagine murgiana che avrebbe dovuto sfruttare il turno interno per ritornare a sorridere, che invece in camera ha un altro stop allungando la scia negativa che dura così da tre giornate. Dopo un primo tempo equilibrato gli ospiti rintracciano il guizzo che vale tre punti grazie ad una meteora ex Taranto, ovvero Ivan Squierzanti, bravo a trasformare in rete un assist di tedesco. Balzo in avanti dei nerazzurri che spugnando il tour si si portano provvisoriamente a più 4 sulla zona play out, mentre per il Martina fermo a quota 36 arriva la terza sconfitta di fila. Vincenzo Mastrangelo è il nuovo allenatore della gioiella Prisma Taranto. Nella giornata di sabato è arrivata l'ufficialità del club Ionico, che ha comunicato l'accordo con il tecnico di Gioia del Colle per la stagione 2023-2024. Ex allenatore della Cora della Reggio Emilia della Chiema Slami per Santa Croce, Mastrangelo è pronto alla sua prima avventura da head coach in Superlega, un'occasione ghiotta e rinunciabile per il tecnico 53enne che era già stato un rivalo Ionio dal 1997 al 2002. Ho colto subito la possibilità di poter allenare in Superlega nel campionato dell'Italia del mondo, le prime parole del neotecnico Rosso Blu, dopo aver vinto la finale per la promozione in Superlega con Reggio Emilia, anche se poi tutti sanno com'è andata a finire. Ho subito risposto presente ai presidenti Bon Giovanni e Zelatore, non ho esitato ad accettare un'avventura del genere che considero occasione professionale e personale della mia vita e che ho preso con grande entusiasmo. Una nuova tappa della carriera che Mastrangelo è pronto a vivere senza paura. Non sono spaventato, prosegue il neotecnico, mi rendo solamente orgoglioso. In questi anni ho avuto riscontri di tanta credibilità e quindi tanta stima da parte dell'ambiente del volo in generale. Adesso c'è tanto entusiasmo che cercherò di trasferire al meglio tutto l'ambiente. Sono pronto e sarò a disposizione del club H24 per raggiungere il miglior risultato possibile. La quiete dopo la tempesta, il CJ Baschettarato torna finalmente a festeggiare un successo. Al Tour Sport la compagina Cussina sconfigge per 88-64 l'adriatica industriale corato dell'ex tecnico Putignano e della La Gambarota e ritrova dopo una serie negativa di 6 sconfitte la vittoria. Gli Ionici hanno dovuto faticare per buona parte della gara contro Stella e compagni, riuscendo a convertire in energia tutta la rabbia incorporata nelle ultime settimane. Sulli scudi dico Corral e Simone Rocchi, autori relativamente di 22-21 punti, ma tutta la squadra ha messo in campo quella grinta e cattiveria agonistica richiesta da Cocciolive nelle scorse settimane. Ottimi anche gli impatti, soprattutto a livello difensivo di Grazano e Conte, senza tralasciare l'apporto importante fornito da Bruno, Cena, Villa, San Piero e Dagnano. Dopo aver messo in cassaforte il risultato, Cocciolive ha dato spazio anche ai giovani Gaeta e Liace, ancora fermo ai box piccoli in fase di recupero. Mercoledì il rosso-blu nuovamente in campo in trasferta contro Teramo per ritrovare il successo esterno e dare continuità alla vittoria ottenuta davanti al pubblico amico del Tour Sport, palla 2, fissata alle 20.30.